la nuova suzuki ignis un design rinnovato nuovi interni tanti cambiamenti come sempre è una costante che consuma sempre meno perché l'ibrido di suzuki non è solo uno slogan no il sistema suzuki hybrid in effetti ha esordito su ignis nel 2016 quindi ha avuto tempo di maturare e arriva oggi sulla nuova ignis nel 2020 con una generazione evoluta ebbene nel passare dalla versione non ibrida alla versione del 2016 già i consumi erano stati ridotti di circa il 12 per cento siamo arrivati ad un ulteriore 10 per cento con la riduzione che permette il sistema suzuki hybrid che è un sistema semplice e in questo dico con un po di presunzione geniale perché permette un po come una bici a pedalata assistita di aiutare il motore solo quando serve cioè alla partenza o in accelerazione la nuova versione conferma quelle che erano le virtù di quest'auto quindi grande spazio interno nonostante solo 3,7 metri di lunghezza un bagagliaio capiente quindi ideale per le famiglie per le donne che sono infatti le vostre acquirenti preferite si ignis ha nella versatilità uno dei suoi punti di forza direi dei suoi punti unici 3,7 metri tanto per fare un paragone celebre sono poco di più un paio di centimetri più di una semplicissima panda bene in così poco spazio tanta tecnologia e tanto spazio chiedo scusa in così poche dimensioni esterne tanta tecnologia tanto spazio all'interno il bagagliaio in particolare è modulare grazie ai sedili posteriori che possono scorrere autonomamente separatamente con uno split di 50 e 50 è adatta sì alle signore e comunque a chi ha bisogno di muoversi e disricarsi all'interno del traffico cittadino e anche a chi vuole fare una scelta un po' diversa un po' controcorrente e vuole restare con una vettura compatta a livelli di tecnologia elevati il motore è molto brillante ed è il medesimo su tutte le versioni avremo una versione 4x4 una versione due ruote motrici con o senza cambio automatico il listino quindi è abbastanza semplice mi sembra di poter dire sì la semplicità del listino è un po' una delle direzioni che cerchiamo di intraprendere quando lanciamo sempre un modello sul mercato italiano ed è in effetti molto semplice anche in questo caso si parte da 14.500 euro per una versione già riccamente equipaggiata di fatto non una versione di ingresso ma già la versione intermedia e si sale chiedo scusa alla versione top con un gap di 1.250 euro che permettono di aggiungere tutti gli ausili relativi alla guida semi autonoma che noi chiamiamo in modo amichevole attento frena guida dritto e resta sveglio dei dispositivi avanzati che fanno esattamente la funzione che dice il loro nome bene oltre a questi contenuti suzuki ignis permette di aggiungere il cambio automatico sono 1200 euro e la trazione integrale con 1500 euro un vero marchio di fabbrica per la suzuki grazie a tutti